Eccoci qua sul Garda per una nuova avventura. Giornata sempre top. Oggi andremo su Cimacommer. Cimacommer che si trova tutta la loce. Si trova là, guardate là. Vedete che è sereno, la giornata. Ecco si trova là. E poi Ronzino dice che andremo a vedere un neremo. Ci vedremo di San Valentino. San Valentino che non conoscevo. Ma hai visto anche io davvero così lo vediamo. Andiamo. Buongiorno. Spettacolo eh. Buongiorno. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti